Qualche giorno fa sul giornale locale della provincia pavese è apparsa una intervista al presidente di Arcighei di Pavia dove afferma che nelle scuole pavese Arcighei va a fare delle lezioni. Io non voglio commentare, non voglio sapere nemmeno che cosa viene fatto e che cosa viene detto in queste fantomatiche lezioni. La cosa che voglio sapere dal ministro è se il ministero è al corrente e le motivazioni per cui si è dato l'autorizzazione a fare lezioni di questo tipo. Noi siamo in un momento storico in cui si sta cercando di riformare la scuola, difficile, cosa importante. Siamo altrettanto in un momento in cui si vuole far trasformare la scuola italiana in una scuola più europea, più all'avanguardia dove i nostri studenti possano imparare e possano essere degli studenti che sono pronti per il mondo del lavoro. Penso che determinate cose devono essere affidate alla famiglia e non posso pensare che a mio figlio venga fatta una lezione da degli sconosciuti dove io non so nemmeno che cosa gli viene detto.